Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova parte di New War Apocalypse Wheel Questa parte continueremo, andiamo Iniziamo a livello 1.4, Bonnie Solider, tank armi Iniziamo Sta registrando, si Vediamo che c'era la prima stella, facilissima da prendere Sì, direi che va bene, sta registrando Ecco qua c'era la seconda stella Grazie Ecco abbiamo preso la terza stella, adesso andiamo a finire il livello Fatto Adesso andiamo a fare il livello 1.5, Fog Bridge Andiamo Questo livello abbiamo un vantaggio, Mario e Helic Qua c'era subito la prima stella Dov'è un'altra Ecco qua c'è un altro Mario Helica, perfetto Qua c'è un altro Mario prenderà prenderà ecco fatto ed è finito anche il livello 1.5 adesso andiamo a fare il livello 1.6 blue swamp cavern oh sto idiota che ci rompe le scatole sti gufi o così li chiamo io poi non so se sono gufi o no sono pipistrelli rompono proprio le scatole direi proprio di sì qua c'è la prima stella non so se sono Ecco Eccoci qua La seconda stella è qua Alzziamo un po' il volume Ed ecco qua C'è la terza stella E non abbiamo preso la vita Level clear Abbiamo finito anche il livello 1.6 Non 1.7 Adesso andiamo a fare il livello 1.8 Non 1.7 Scare Ghost Forest Ecco qui dobbiamo stare molto attenti Ecco qua abbiamo preso la prima stella Ecco qua Ecco qua Prendiamo questo ghiaccio Qua da qualche parte ci dovrebbe essere un P-Switch Eccolo lì Dove c'è la seconda stella Qua c'è un altro fiore di ghiaccio E qua serve il guscio Ed ecco qua Ed ecco qua Ce l'abbiamo fatta Anche a livello 1.7 Bene Bene Allora Per questa parte abbiamo finito Io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte Ciao Ciao Ecco qua Ecco qua Ecco qua Faccio Ecco qua Scuja Anche Grazie Qua